Innanzitutto, che cos'è la valuta, la moneta? Ecco, questo è il mio biglietto da visita. Ne volete comprare uno per 20 euro? Questo di per sé non ha valore. Ma adesso voglio raccontarvi un'altra cosa. C'è solamente un'uscita da questa sala. Adesso non avete paura, vi racconto solo un aneddoto. C'è solo una porta per uscire da questa sala. A quest'uscita c'è un uomo armato e lavora per me. E non potete uscire a meno che non abbiate uno di questi biglietti. Improvvisamente siete tutti disoccupati. Siete tutti alla disperata ricerca di un lavoro, di un qualche modo per procurarvi questo biglietto per poter uscirvene da qua, come voglio. Ma comunque non posso disoccupare più persone di quante non voglio assumere. Ed è per questo che io chiamo disoccupazione un crimine contro l'umanità. La disoccupazione è un crimine contro l'umanità. cioè il governo... Applausi 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 Applausi